Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati finalmente sul mio canale. Oggi ci occupiamo dell'anniversario del giorno, un anniversario di cui è abbastanza difficile parlare a causa della crudezza dei fatti. Un anniversario di cui comunque non si parla molto, anche se sarebbe molto importante ricordarlo, visti i fatti e vista l'importanza politica che questi fatti avranno, nello scatenare altri fatti successivi appunto. Nel creare un clima di maggiore tensione, siamo infatti nel cuore degli anni di Pionvo. Ci troviamo a cavallo tra il 1974 e il 1975 a Milano, precisamente zona est della città. Per chi conosce il capoluogo Lombardo, questa storia si sviluppa quasi tutta in zona città studi, grosso modo. E quindi appunto zona orientale della città. Il protagonista della vicenda è lo sfortunato Sergio Aramelli. Chi era Sergio Aramelli? Sergio Aramelli era uno studente, diciottenne, che frequentava il celebre Itis Molinari, appunto in questa zona a Milano. E perché dico celebre Itis Molinari? Il Itis Molinari era famoso, soprattutto all'epoca, proprio perché era uno dei centri dello scontro politico tra ragazzi di destra e di sinistra a Milano. Con ovviamente prevalenza della sinistra. Praticamente la scuola era in mano loro, ecco, diciamo così, era in mano alla frangia di sinistra degli studenti e dei di buona parte del corpo docenti. Questo è da segnalare e sarà importante per lo sviluppo della storia questa nota. Ramelli invece, chi era? Ramelli era uno che aveva deciso di stare dall'altra parte. Non solo era militante di destra, ma era perfino fiduciario del locale fronte della gioventù. Il fronte della gioventù era la branca giovanile, l'aralo giovanile del movimento sociale italiano. Quindi il movimento di destra per eccellenza della prima repubblica. Però questo cosa vuol dire? Significa che Ramelli aveva un ruolo istituzionale, diciamo, non era legato a... Era un giovane funzionario di partito, dell'ala giovanile di un partito che sedeva in Parlamento. Voglio dire, non era un violento, non era un membro di gruppi extraparlamentari, di gruppi terroristici. Semplicemente manifestava le proprie idee in modo normale. Non normale, ecco, insomma, certo, politicamente schierato, ma senza eccessi. E anche questo è importante per costruire la storia, perché non solo per queste sue idee, in un ambiente così schierato dall'altra parte, queste idee gli procurarono ben due aggressioni nel giro di poco tempo. Ma è importante segnalare che la goccia che invece di traboccare il vaso, che portò il 13 marzo 1975 a un'aggressione più selvaggia delle altre, che lo porterà poi, anticipo, alla morte, ma andremo poi con ordine a raccontare tutti i fatti, la goccia che portò a questa aggressione più dura delle altre fu un tema. Un tema, peraltro, in cui Ramelli si limitava a denunciare, a condannare, l'operato delle Brigate Rosse, che erano pressoché appena nate. Ora, mi sembra che qualsiasi persona, anche non di destra, ma comunque amante della legalità, si senta di condannare l'operato delle BR, giusto? Ora, appunto, Ramelli in questo tema denuncia questa nascita di questo gruppo, questo grosso gruppo terrorista di sinistra, e soprattutto la loro prima azione, che ad oggi è persoché dimenticata, per quanto appunto fu il battesimo del fuoco di questo gruppo. Si ricordano, certo, altre imprese, imprese, ovviamente, di queste Brigate Rosse, tra tutte il rapimento e poi l'uccisione di Aldo Moro. Va bene, parliamo chiaramente in quel caso di obiettivi del gruppo molto importanti, parliamo di BR ormai ben strutturate, però sarebbe importante anche ricordare il primissimo atto. Quale fu? Fu l'omicidio a Padova, sul finire del 74, di due militanti, sempre del Movimento Sociale Italiano, quindi di due compagni di partito, camerati, diciamolo pure, di partito di Ramelli, signori di mezza età, uno se non ero addirittura era un redducero al pubblico sociale, quindi comunque aveva un'età, funzionari di partito furono assassinati dalle Brigate Rosse all'interno di una sede locale del Movimento Sociale a Padova, appunto. Ramelli denuncia questo fatto, denuncia la nascita di questo nuovo gruppo, e soprattutto il fatto che le istituzioni, proprio per il fatto che le vittime erano due sempliciotti, due persone comuni, e soprattutto due militanti di destra, e quindi appunto le istituzioni non avevano mostrato la giusta attenzione a questo fatto, ecco che notiamo comunque fu importante, perché appunto fu il battesimo di fuoco di un gruppo che poi misa a fare il fuoco l'Italia per un sacco di tempo, l'organizzazione di punta dell'estremismo rosso durante gli anni di piombo, mentre appunto l'estremismo nero faceva capo tra i suoi gruppi a ordine nuovo, per dire, ecco, i due gruppi. E bene, questo tema viene letto in pubblico, in classe, dal professore. Lo fa per elogiare lo stile di Ramelli, lo fa per elogiare nei contenuti? No, lo fa per dileggiare lo studente, ecco, deve sempre distinguersi, deve sempre fare quello che è contro, quello che si mette contro la sinistra, questo fascistoide, questo ragazzino, come si permette. Tra l'altro appunto se si va a vedere le foto di Sergio Ramelli all'epoca, era veramente alla moda, il capello lungo, era un ragazzo veramente normale, uno come tanti, cioè, politicamente schierato, ripeto, per carità era membro di un partito, ma... E allora appunto il professore legge questo tema in classe. Non solo. Un collettivo di studenti di sinistra dello stesso istituto tecnico prende il tema dal professore, come non è ben noto però, probabilmente non avranno avuto neanche tanti problemi nell'attuare questa cosa, e lo affigge, affigge il tema in una bacheca pubblica, nell'atrio della scuola. Così che tutti possono leggere, qui sta a mettere all'agonia Ramelli e dire, ecco, vedete, che razza di cose scrive questo fascistoide, questo piccolo squadrista. Dobbiamo assolutamente punirlo. Dobbiamo fare in modo che la giustizia del proletariato colpisca questo nemico in modo duro. Ramelli a questo punto, formalmente condannato, questi sono i termini dell'inchiesta che poi scaturirà, venne condannato da un collettivo di studenti della sua stessa scuola, già due volte aggredito, quindi decide di lasciare la scuola. Lui voleva appunto diventare perito chimico, chimico industriale, firma la rinuncia agli studi, lascia la scuola e però ormai la sua sorte è segnata. Il 13 marzo 1975, mentre torna a casa, sempre nella zona est di Milano, parchegge il motorino, fa gli ultimi metri a piedi, sotto casa lo attende un commando di ben otto militanti di sinistra di un gruppo che si chiamava Avanguardia Operaia. Ricordiamo come la sinistra extraparlamentare fosse piena dei gruppi più vari e delle denominazioni più diverse. E questi appunto erano Avanguardia Operaia. 8 militanti per colpire un ragazzo di 18 anni che sempre, foto alla mano, non è che fosse Dwayne The Rock Johnson e soprattutto all'improvviso, perché appunto tornava a casa, era una giornata così di inizio primavera, non si aspettava assolutamente una cosa del genere, lo attaccano, lo colpiscono sulla testa con delle chiavi inglesi, le celebri Asset 36, sono delle grosse chiavi inglesi. Fu il primo agguato di questo tipo che dopo appunto le famose, queste Asset 36, furono un po' la firma degli agguati della sinistra in quel periodo. Da Ramelli in avanti, questa fu un po' l'arma più amata dagli estremisti rossi per colpire i propri nemici. Tanto che appunto dopo l'aggressione di Ramelli, nei giorni immediatamente successivi, ci furono molte altre aggressioni sempre di questo tipo. E il reparto craniolesi dell'ospedale di Milano era veramente pieno di ricoverati a seguito di queste aggressioni. personaggi più o meno legati alla destra, eccetera. Soggetti anche un po' vari. Bene. O meglio, insomma. Ramelli viene così colpito a morte, lasciato a terra sanguinante e appunto si trova davanti a casa, la portinaia del suo stabile lo trova, lo riconosce e subito avverte la famiglia che porta Ramelli in ospedale. e lì viene sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico che aveva dato circa 5 ore per cercare di salvarlo, ma comunque si sapeva che anche fosse sovravvissuto non sarebbe mai ripreso completamente dalle ferite. il cranio era troppo compromesso. Passa 47 giorni tra coma e momenti di lucidità alla fine nella notte tra il 28 e il 29 aprile del 1975 Sergio Ramelli a 18 anni muore in ospedale appunto. Tra l'altro ripeto nei giorni tra l'aggressione e la morte in questi 47 giorni ci fu un questo dicevo evento importante per eventi politici successivi fu il momento in cui si inasprì la lotta tra rossi e neri a Milano perché appunto prima di tutto ci furono molte altre aggressioni ripeto sempre con le chiavi inglesi ma non so ci furono anche scontri a fuoco perché ogni tanto appunto qualcuno ci aveva detto una pistola più o meno regolarmente detenuta quindi insomma si difendeva c'era un po' c'era un clima molto teso ecco quindi aggressioni dei rossi i neri volevano fare delle rappresaglie volevano vendicare questo loro camerata che era stato ferito qualche rosso del comando tra l'altro è interessante notare non solo si presentarono in otto ben armati in agguati e tutto quanto ma erano anche studenti universitari questi non erano neanche non conoscevano Ramelli non lo conoscevano personalmente questo emergerà dalle carte del processo che addirittura siamo nel 75 il processo terminerà nel 1990 e con pene irrisorie diciamocelo subito Ramelli come la maggior parte delle vittime degli anni di piombo non ebbe una non ebbe giustizia ecco questo questo dobbiamo dirlo subito per quanto alcuni di questo di questo gruppo che l'aveva colpito sapendo delle condizioni in cui si trovava ora considerando che la maggior parte di questi erano studenti di medicina magari pensare che se colpisci uno ripetutamente con forza con una chiave inglese grande così sulla testa non gli fai delle carezze magari il coma è il minimo ecco quando seppero di queste condizioni si pentirono e andarono appunto a costituirsi o comunque decisero una volta arrestati di collaborare con le forze dell'ordine vabbè comunque questo per farvi capire come si è messo e personaggi appunto questi giustini di medicina diversi ebbero poi dopo il processo e dopo queste pene irrisorie ebbero ruoli di primo piano nella sanità milanese e non solo e quindi appunto tutti i giovanotti bene ramelli al contrario frequentava un itis era di una famiglia molto modesta ecco è una cosa che torna spesso in anni di piombo giovani di destra però di estrazione popolare colpito da giovani di sinistra magari più grandi di lui e soprattutto molto economicamente meglio messi vabbè e questo appunto poi favoriva anche le fughe le latitanze eccetera eccetera chiaramente questo questo è oggettivamente un fatto che che si nota ecco in diversi episodi di anni di piombo e questa quindi è la storia di Sergio Ramelli ragazzo diciottenne politicamente schierato ma assolutamente non uno squadrista colpito vigliaccamente con questo oggettivo sotto casa da da otto studenti più grandi di lui che nemmeno possevano lui era stato denunciato appunto da da degli studenti di sinistra della sua scuola ma poi non sono stati loro non hanno avuto neanche il coraggio di armarsi la mano e colpirlo personalmente ecco sono andati a dirlo ai fratellini più grandi e quindi ecco come andò a finire la cosa poi appunto ripeto durante durante il periodo tra l'aggressione e la morte ci furono altri scontri ci furono gli altri esponenti di sinistra andarono sotto casa di Ramelli a fare delle scritte minacciando anche il fratello dicendo se non sparirai in tutto quanto 8 ore uccidiamo anche te la madre anche essa fu che poi è morta poi recentemente fu la madre di Ramelli fu minacciata anche lei anche durante il processo fu una situazione molto 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 accesa e molto ecco difficile una nota interessante è che l'avvocato che prese le parti di Ramelli durante il processo e niente meno che il militante di destra attualmente presidente del senato Ignazio Larussa questa è una nota di colore ecco di questa vicenda e infatti spesso Larussa si è si è speso appunto per ricordare uno tra i pochi che a livello anche istituzionale ricorda questa questa tragica vicenda diversi questo è questo è da dire perché se dobbiamo dire le cose brutte diciamo anche qualcosa bella diverse sono le iniziative per ricordare a Ramelli non se ne parla molto ma è da dire ripeto c'è un murale sotto casa sua che lo ricorda con scritto Sergio Vive alcuni parchi sono stati dedicati alla sua memoria alcune vie e stati fatti alcuni fumetti alcuni ovviamente diversi libri stati scritti sull'argomento e quindi anche io ho voluto appunto rendere omaggio a questo ragazzo anche alla luce del fatto che purtroppo ancora oggi a Milano negli ultimi tempi ci sono state occupazioni di sinistra di istituti con rischio anche di escalation di violenza contro altri studenti che non la pensavano allo stesso modo bene io mi scuso per se mi dilungato così tanto ma la storia è importante e vi ringrazio di avermi seguito finora come sempre vi raccomando se gli argomenti mi interessano video vi piacciono di lasciare un like iscrivervi al canale rimanere sempre aggiornati cercherò promesso di fare molti più video le idee non mi mancano ho messo giù una scaletta purtroppo ho avuto qualche grana di tempi ho ripreso gli studi ho ripreso la palestra quindi sono un attimo un casinato ma prometto tornerò con regolarità sul canale e ciao alla prossima grazie